Il ritardo dei lavori di riqualifica di Parco Sartori e Tognazzi, le mancate ripiantumazioni, la sporcizia sui marciapiedi, le buche, sono alcune delle criticità che affliggono il quartiere Po di Cremona, che alcuni cittadini segnalano da tempo. Questi ed altri temi verranno ribaditi dall'ex presidente del comitato di quartiere durante l'assemblea pubblica che si svolgerà domani all'oratorio di Cristo Re, a cui parteciperanno anche degli esponenti dell'amministrazione. Siamo al Parco Sartori, iniziato ad ottobre, così come il Parco Tognazzi e ad oggi è ancora tutto in alto mare. Ho segnalato la cosa a dicembre, sia per il Tognazzi che per il Sartori, mi hanno detto che era secondo la tabella di marce e i lavori proseguivano regolarmente. La cosa va avanti, circa 10-15 giorni fa, ritorno a segnalare la cosa e mi dicono, chiedo due semplici cose. La motivazione, se è possibile, di conoscere questi ritardi, da cosa sono dovuti, e la seconda, la tempistica di termine lavori. A questo mi hanno risposto gentilmente da spazio comune, dicendo che non sono in grado di rispondere. Allora, in questo caso, siccome martedì prossimo, martedì 20 febbraio, a Cristo Re si avrà un'assemblea pubblica, ci saranno gli assessori, i comitati dei quartieri, eccetera, ribadirò questa cosa. In marciapiede abbiamo un caso proprio qui al Parco Sartori, sul fronto dove c'era l'ex edicola e la giostra. In marciapiede sono mesi e mesi che non vengono puliti. Lo si vede, diciamo così, dal deposito che si è creato. E inoltre, in mancanza di alberi, nel solo quartiere Po, diciamo così, per un conteggio così approssimativo, sono già ad oggi più di 150 gli alberi che mancano all'appello e sono da ripianto mare. Oltre che a quello, ci sono situazioni di alberi caduti, ramaglie, eccetera, e mai rimossi.